e buongiorno cari buongiorno voglio fare un video oggi un video non sono molto contento di fare questo video però sapete quando ci vuole ci vuole e dobbiamo insegnare anche a tutti i fratelli a tutto il corpo di cristo che quello che quello che l'uomo semina poi eventualmente raccoglie quello che si semina la bibbia dice quello che si semina si raccoglie il titolo di questo mio video l'ho messo anche su facebook si intitola quando la lana non è più bianca lana tutti lo noteranno quando la lana non è più bianca lana tutti lo noteranno oppure quando la lana non è più bianca bene voglio parlarvi un attimo di questo perché sapete voglio rendere giustizia alla parola di dio agli uomini di dio che lavorano a tempo pieno e con tutto il cuore quei ministri quei pastori che lavorano a tempo pieno con tutto il cuore lo fanno veramente di cuore lo fanno veramente di cuore quindi questo è molto importante per capire cari che dobbiamo stare attenti sempre a rimanere con le sacre scritture oggi mi hanno fatto notare alcuni miei collaboratori del ritiro del ritiro di di un ministro di dio chiamato così fratello sorella fratello non so nello ministro di dio che ha molto attaccato ministri di dio che predicano il tempo pieno che vivono per fede che predicano la decima eccetera li ha terribilmente attaccati tempo fa ma non solo ha predicato pure una falsa dottrina una falsa dottrina la falsa dottrina dell'iper grazia per cui ripeto non sono contento di fare questo video però voglio farvi notare come come tutto quello che noi facciamo contrariamente alle scritture o contrariamente agli uomini di dio e le donne di dio prima o poi è un boomerang che ritonderà nella nostra vita perché quello che si semina si raccoglie quindi mi hanno fatto notare alcuni miei collaboratori dice guarda è successo questo questo e questo questo ministro si è ritirato non farà più video non mentre non metterà più nulla online perché è quasi impedito ora leggerò alcune sue sue affermazioni che ha scritto sui suoi social io non non ce l'ho più come amico su facebook perché con l'amore l'ho bloccato perché un giorno pubblicamente davanti a tutti mentre io gli ho risposto pubblicamente perché pubblicamente lui attaccava i ministri di dio che vivano a tempo pieno pubblicamente gli ho risposto dicendo guarda che non è così non è come dici tu la bibbia lo dice quindi poi lui con un modo sarcastico con un modo gli sembrava che l'intelligente ha cercato di oscurare la mia vita il mio ministerio cercato di oscurare quello che io stavo dicendo dice da essi certo non ti conviene perché tutti i ministri dovrebbero andare a lavorare come se i ministri di io non lavoro e quindi insomma ci ha fatto capire che tutti i ministri a tempo pieno sono delle persone che scansa fatiche che non vogliono lavorare quindi hanno scelto il ministero per passatempo e quindi io gli ho detto guarda che quello che dici non è scritto nella parola di dio la bibbia insegna tutt'altro di quello che tu dici a parte che lui ha una falsa dottrina dell'ipergrazia ma poi ha continuato a parlare male della decima dei ministri di dio che vivono a tempo pieno che dovrebbero andare a lasciare il tempo pieno e mettersi a lavorare normalmente in un modo secolare quando la bibbia non insegna questo per i ministri di dio la bibbia dice chi è quella chi è quel soldato che si mischia nelle faccende della vita dice non piacerà al suo a suo proprio signore cioè a dio gli piace che delle persone come nell'antico testamento i leviti siano a tempo pieno per cui questo questo ministro che non niente contro di attenzione non assolutamente niente contro di anzi mi dispiace quello che sta passando però sta passando momenti brutti perché lui lo scrivi io leggo quello che lui ha scritto nei suoi social dice lui dice adesso non posso più permettermi che il lavoro che sostiene la mia famiglia sia messa a repentaglio da azioni mosse a invidia e che hanno solo scopo di distruggere me e di conseguenza coloro che mi amano per cui lui ha avuto probabilmente dei problemi visto che lui non lavora a tempo pieno visto che lui è lavoro in luogo pubblico un insegnante e lui dice che ha avuto dei problemi perché lui dice qua lui dice qua che ha ricevuto molte accuse sui social e quindi è costretto a chiuderli infatti dice i miei social significa permettere che altre infamie vengano aggiunte nei commenti attraverso le condivisioni di post di video e dal mio canale youtube quindi lui non farà più queste cose perché si fermerà in un certo qual modo si fermerà aveva prima non so se forse aveva forse anche una chiesa prima l'ha fermata l'ha bloccata non lo so che cosa gli è successo però comunque sia poi si è messo a fare lo sceriffo solitario si è messo a fare il predicatore della grazia per accogli tutti scusate il termine cane porci quindi predicando la grazia tu accoglie chiunque no le più disparate persone che non vogliono manco sapere niente del vangelo si entrano autorizzate a seguire questo ministro della giustizia comunque sia hanno ricevuto diverse querele è stato terribilmente attaccato non lo so come da chi se poi se è vero comunque sia dice che ha messo a arrepentagli il proprio lavoro tant'è che lui essendo insegnante di ragazzi forse è arrivato all'orecchio anche dei genitori queste queste accuse queste cose e chi glielo dice la gente che magari non è vero per cui lui dice no e allora non mi conviene mi ritiro e ritorno al mio lavoro che mi ha dato che sempre da mangiare come lui dice qui lui ci adesso non posso più permettermi che il lavoro che sostiene la mia famiglia sia messo a arrepentagli d'azione mosse da invidia e che hanno il solo scopo di distruggere me e per conseguenza coloro che mi hanno amato invidia ma chi ti invidia caro semmai perché non lo prendi come un'ammunizione di dio che hai parlato contro i ministri di dio hai parlato contro coloro che sono dedicati a tempo pieno solo perché tu hai un lavoro secolare e quindi dici che io non ho bisogno il mio lavoro secolare io posso dire quello che voglio e no caro io posso dire quello che voglio perché io vivo a tempo pieno per l'opera del signore quindi siccome nessuno mi ha assunto nessuno mi può licenziare a te invece di voi ti possono licenziare a te ti posso licenziare perché tu hai fatto hai fatto il gradasso volte anche nel parlare contro i ministri di dio che sono a tempo pieno e ora e ora sei costretto a ritirarti perché se non stai attento ci può essere anche dei problemi come tu dici non lo sto dicendo io come tu dici nei social come tu hai detto qui nei social e tu dice ancora nei social se fossi stato nel ministero a tempo pieno avrei lasciato perdere avrei sopra 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 seduto pure se le accusa avesse riguardato il piano dottrinale se fossi stato nel ministero a tempo pieno ma tu hai parlato male dei ministri a tempo pieno tu hai parlato male dei ministri di dio tu hai parlato male di coloro che sono a tempo pieno per cui tu non puoi essere a tempo pieno perché a tempo pieno è una chiamata da dio ci vuole fede non ci vuole fede per avere uno stipendio ma ci vuole fede per vivere a tempo pieno quindi tu che parlavi male dei ministri di dio ti vantavi del tuo stipendo vedi come ti ritrovi ora non puoi più parlare non puoi dire quello che credi giusto sbagliato che sia sbagliato comunque ma non lo puoi più dire non lo puoi più dire ecco ecco la bellezza di quello che io cercavo di dirti di essere a tempo pieno ed essere un uccello di gabbia un uccello di scusate di bosco piuttosto che un uccello di gabbia tu hai fatto troppo il gradasso nel parlare male dei ministri di dio che lavorano a tempo pieno se tu non credevi al ministero a tempo pieno non dovevi manco parlare quindi ecco perché il titolo di questo di questo mio video è quanto com'era com'era che me ne sono dimenticato l'ho scritto per non dimenticarlo perché mi vengono questi flash quando la lana non è più bianca lana tutti lo noteranno quindi questo tuo ritiro dai social dai video perché hai paura che puoi perdere qualcosa del tuo lavoro ti fa capire che tu non dipendi da dio ti fa capire che tu non sei mandato da dio perché quelli che dio manda li raccomanda se io ho un messaggio ho un messaggio lo predica e basta nessuno mi può fermare se mi fermeranno cercherò di agire in qualche altra maniera ma tu ti sei fermato perché non sei stato mandato e devi stare attento alla pappa che ti offre il tuo lavoro quando invece tu sei da dio hai un messaggio da dio ci saranno le tribolazioni o io ho avuto divisione ho avuto attacchi ho avuto ripercussione a destra e a sinistra ma ancora sono qui dopo tanti anni a vivere a tempo pieno per l'opera di dio predicanti insegnando le decime offerte come insegna la bibbia senza tema senza vergogna perché ho imparato a predicare la parola di dio e nascontermi dietro ad essa come un uomo di dio mi ha insegnato tu predica la parola e poi nascontiti dietro ad essa e poi chi viene contro di te si schianterà contro la parola quindi quando la lana non è più bianca non è più bianca lana e tutto noteranno perché questo ritiro fa capire che non c'è un vero mandato perché quelle che dio manda li raccomanda quelle che dio manda dipendono solo da dio benedetto l'uomo che confide in dio maledetto l'uomo che confide un altro uomo o qualsiasi altra cosa che non posso più predicare per i miei cari per questo per quell'altro quindi questo ci fa capire cari che dovete stare attenti ai falsi ministri ai falsi pastori a non farvi illudere e purtroppo questo si appoggia questo predicatore si appoggia a un altro purtroppo vedete per essere chiara a volte deve fare dei nomi a volte a me non piace fare i nomi però infatti non ho fatto nome non ha detto Walter Biancalana non ho detto Mario Marchio oh caspita ops l'ho detto perdonatemi l'ho detto quindi questi falsi predicatori che predicano la grazia che cercano poi di togliere persone dalle chiese mettere pensieri dei dubbi nelle membre delle persone che i pastori vogliono sfruttare con le decime offerte ti vogliono ti vogliono soggiogare con l'autoritarismo perché predicavano questo predicavano che i membri non dovevano essere sottomessi i membri non erano dovrebbero essere insubordinati perché l'unica autorità è questa alla gente carnale fa 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 senso questo tipo di predicazione alla gente venale attaccata ai soldi fa senso predicare no decima e pro libertà no decima non offerte non chiesa non chiesa locale solo online eh no caspita noi siamo online perché ci sono dei bisogni però noi crediamo nella chiesa reale dove due tre si riuniscono nel mio nome e gloria a Dio anche per le chiese online perché è una benedizione in tempi in tempi di restrizioni di persecuzioni di pandemia eccetera per cui ora purtroppo non è più una lana bianca perché c'è il rischio che può anche perdere perdere il posto di lavoro perdere qualsiasi cosa perché vedete quello che si semina si raccoglie pubblicamente ha cercato di umiliarmi questa persona chattando in contemporanea quando lui faceva una specie di insegnamento e parlava male dei ministri di a tempo pieno dovrebbero andare a lavorare dovrebbero fare questo ma vai a leggere la bibbia rivediti caro caro fratello sorella se sei tale rivedi la tua posizione biblica e prendilo come un ammonimento del signore che ti ha fermato e ti ha bloccato perché stavi facendo danni non nel regno delle tenebre danni nel regno di Dio tu pensavi che stavi facendo una riforma insieme al marchiato Mario Marchio perché Mario Marchio è marchiato nella propria coscienza perché dopo che ha mangiato nelle chiese compresa la mia ora parla male delle chiese parla male dei ministri di Dio parla male di tutti perché non ha più bisogno e non si sputa dove si mangia non si sputa dove si mangia si deve apprezzare per cui questo mio video ripeto non è perché sono felice e contento di quello che è successo però deve insegnare dobbiamo imparare cari dobbiamo imparare che quello che si semina con la bocca si raccoglie con la bocca con le azioni quello che si semina si raccoglie è un boomerang che gettato poi ritornerà nella tua vita che tu non sei d'accordo con le decime le offerte con le chiese locali con la sottomissione dei ministri quello è un altro discorso ma non che ne hai fatto un pubblico spettacolo non che ne hai fatto una marcia sembravano tutte e due Bruce Lee che viene da lontano per fare per fare che cosa per cambiare la bibbia le scritture per cambiare quello che dice la bibbia quindi prendilo come da parte di Dio prendilo come da parte di Dio e io l'ho fatto pubblicamente uno perché non ti conosco bene conosco solo il tuo operato che non viene dal Signore questo lo posso dire due perché non ho voglia e manco perde tempo di chiamarti terzo perché devono sapere le persone che tu hai offuscato che un uomo di Dio quanta un messaggio di Dio nessuno lo fermerà né le critiche né il lavoro niente se uno è mandato da Dio se non è mandato da Dio mi manda piccone e allora vuol dire che è così ma tutti i ministri di Dio del Nuo Testamento della storia della chiesa non si sono mai fatti fermare perché qualcuno l'ha criticato ma quelle critiche ti hanno ferito perché tu hai ferito gli altri e di solito chi ferisce chi è ferito ferisce quindi tu non predicavi la parola predicavi le ferite magari hai avuto problema nelle chiese e poi sei uscito fuori unendoti all'altro per poter fare all'alto marchiato a fare quello che avete fatto finora parlando male delle chiese dei ministri di Dio dove avete mangiato dove avete sputato e cercando di crearvi il vostro habitat facendo conferenze a destra e a manca negli hotel eccetera ma chi vi ha seguito vi ha seguito gente senza spina dorsale vi ha seguito gente che non ha fatto un'esperienza col signore vi ha seguito gente che non ha profondità bibliche mi dice Giovanni Giovanni Rallo mi vengono in mente Paolo e Pietro e Giovanni che niente nessuno li ha potuti fermare bravissimo pastor Giovanni nessuno li ha potuti fermare quindi caro caro bianca lana lana bianca era lana bianca vedila come da parte di Dio questo tuo fermarti vedila come da parte di Dio questo tuo fermarti certo non puoi lasciare il lavoro perché hai parlato molto abbastanza contro i ministri di a tempo pieno e ora tu non puoi dire lascio il lavoro mi metti a tempo pieno e cosa deve dire la gente che ho parlato male al tempo pieno dei ministri a tempo pieno e ora mi metti a tempo pieno non ti conviene più non ti conviene più farlo quindi devi stare lì nel tuo lavoro calmo calmo e non puoi essere più libero di dire e di dire quello che quello che pensi giusto sbagliato che sia sbagliato capisci quindi vedi non sei libero non sei libero primo corinzi capitolo 9 Paolo dice verso uno in poi dice non sono io libero tu non lo puoi dire sono libero quando uno vive a tempo pieno e secondo i dettami della parola di Dio e secondo le sacre scritture allora potrei potrei dire come me come tanti altri migliori di me siccome tu non mi hai assunto non mi puoi licenziare invece tu sei limitato nel dire nel parlare perché non solo hai detto cose che non sono vere cose che non sono bibliche ma hai diffamato persone ministri chiese hai accusato di persone che erano esagerate con la sottomissione forse ce ne saranno ma tu hai fatto capire che non è importante la copertura spirituale ti ricordi quando hai parlato della copertura spirituale non è importante la sottomissione ti ricordi che non avevi parlato della sottomissione delle decime delle offerte e ti ricordi che hai parlato di queste cose beh ora 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 divertiti non puoi più parlare e se devi parlare devi cambiare mestiere devi cambiare mestiere e te che per me se non ti piace perché ti piace parlare o nella cattedra o in un pulpito però io chiederei scusa prima a Dio e poi fratello i ministri di Dio che hai offeso pubblicamente con i tuoi video per quell'associazione a delinquere di stampo spirituale religioso con l'Africa e avete detto tutte quelle cose brutte verso i ministri di Dio mettendo e instillando dubbi nelle pecorelle di Dio tant'è da farli sviare io conosco persone che sono sviate a causa vostra dell'iper grazia questo messaggio diabolico satanico senza fondamento scritturale che il Signore vi possa dare saggezza e sapienza fratelli che avete seguito questi che seguite questi ministri state attenti restate con la Bibbia restate nei confini di Dio restate con le sacre scritture e se quello che io vi sto dicendo ha una risonanza dentro di voi è forse perché il Signore vi sta parlando diversamente io posso dire solo una cosa come Paolo di Simprimo Corinzi 9 1 io sono libero sono libero di dire quello che voglio perché Gesù mi ha liberato per cui nessuno mi ha assunto nessuno mi può licenziare meglio un uccello di bosco che un uccello di gabbia la libertà che hanno diffuso queste persone hanno dimostrato che in realtà sono in gabbia perché Dio non li ha mandati buona riflessione e se volete fate avere questo video a queste persone senza tema senza nessuna tema di nessun genere di essere smentito che si possono rivedere perché pubblicamente un giorno mi ha ripresa a me dicendomi che i ministri di Dio dovrebbero andare a lavorare tutti come se già nel ministero uno non lavora facendo ridere le persone prendendo facendo sollevando le persone contro i ministri di Dio come se fossero dei scansafatiche quello che si semina si raccoglie